Voga 2016. È importante la destinazione o anche il viaggio? E secondo me è più importante il viaggio della destinazione. Sì, sicuramente la destinazione ha la sua importanza, può essere il posto dove cominciare le vacanze, può essere il posto per un colloquio di lavoro, può essere il posto in cui incontrare degli amici, ma per me anche il viaggio ha la sua importanza. E io ho viaggiato tantissimo, ho viaggiato in treno, ho viaggiato in aereo, ho viaggiato in nave, ho viaggiato anche in auto. E mi piace sempre godere del viaggio, godere del panorama, godere dell'ambiente circostante, vivere ogni viaggio un po' come se fosse una nuova avventura. È una cosa certamente interessante, ed è il modo migliore, secondo me, per vivere un viaggio. Inoltre sono stati alcuni viaggi molto lunghi, per esempio viaggi in auto dal Trentino alla Sicilia, che è spesso fatto da solo, che mi hanno permesso di concentrarmi sul me stesso, di pensare ad alcune cose, e mi hanno dato delle idee per esempio per un libro che sto scrivendo. Quindi sicuramente per me il viaggio importa, e per te è importante la destinazione o conta anche il viaggio? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga2016. Noi ci vediamo domani. Ciao!